segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te molto legata cioè il capogruppo tra noi sono arrivati degli iscritti non lo so non lo so non lo so non c'è più che altro non voglio dare un giudizio avventato perché le dinamiche interne non le conosco bene franceschini però lo conosce franceschini non solo lo conosco bene uno dei miei migliori amici quindi magari qualcosa a cena quando andate fuori si ma franceschini franceschini per me è uno dei più bravi che c'è nel pd però voglio dire sa anche quanto pensa la segreteria sì ma franceschini scusi ad esempio appoggiato l'ashline ma se n'è ben guardato credo da insistere per avere più di tante persone perché capisce benissimo che i meccanismi sono diversi è chiaro che quando tu dai fiducia a una persona poi lei si deve scegliere i collaboratori non è che puoi stare lì con le briglie perché non è neanche decoroso e soprattutto un intelligente come franceschini questo grande errore che inficerebbe subito il suo rapporto con l'ashline non lo fa ecco questo lo posso dire perché è troppo intelligente lei invece casini in un partito come questo guidato dall'ashline non entrerà io non sono nel partito democratico io sono nel gruppo parlamentare e devo dire guardo con grande simpatia tutto quello che si fa e credo sono stato eletto e mi sono iscritto proprio perché sono stato eletto e rispetto a tanti parlamentari la tessera così no la tessera non c'è e non ci sarà ma la la vede molti parlamentari se oggi questi della nuova generazione non quelli vecchi così quelle cariati di quella specie di di come meno effettivamente sono cariati non mi posso neanche offendere se uno mi dice un dinosauro sì sono un dinosauro è un dinosauro che sta bene di salute il più giovane un cucciolo di dinosauro però questi dinosauri hanno alcune regole io ho avuto 250 mila voti dei bolognesi un parlamentare giovane verrebbe qua e direbbe ma hanno votato tutti e me io che ho una certa esperienza vi dico la maggior parte ha votato pd per cui io ritenevo doveroso proprio per rispetto di questa gente iscrivermi al gruppo parlamentare e lì sto rappresentando i miei elettori con decoro la mia storia politica non è quella del pd ed è per questo che ho fatto un passo indietro rispetto all'ipotesi bonaccini slide certo però adesso chiudiamo con la sua vicenda personale che lei racconta benissimo in quel libro però lei poco fa diceva io non mi sono non ho ascoltato la sirena di berlusconi non mi sono entrato in forza italia e adesso ha detto non entro nel pd perché è in un lei viene da un'altra tradizione ma la mia tradizione è centrista democristiana non c'è più e quindi non c'è più però è morta la dc ma sono ancora vivi democristiani questa è la notizia allora sentiamo su questo pregliasco dove sono i democristiani cioè se moriremo tutti i democristiani alla fine siamo tutti i democristiani cioè diciamo io non mi ci metto